Iari Carrisi, non è servita la, benedizione, di papà Albano e mamma Romina Power. Non è bastata la, benedizione, di papà Albano e mamma Romina Power. La storia d'amore tra Iari Carrisi, il primogenito della coppia, e Thea Crudi, è già arrivata al capolinea. I due, che avevano 15 anni di differenza, sembravano la coppia perfetta e a molti ricordavano l'amore tra Albano e Romina. Infatti, anche loro cantavano insieme, soprattutto mantra dell'Himalaya, si dedicavano a yoga e meditazione, e avevano un'intesa che, a detta loro, arrivava da vite precedenti. Ad annunciare la rottura, in una recente intervista, è stata la cantante. Io e Iari non stiamo più insieme siamo rimasti in rapporti amichevoli. Abbiamo fatto una bella esperienza, è stato un bel viaggio e ne rimarrà un bel ricordo. La giovane è rimasta in ottimi rapporti anche con gli ex suoceri. Albano è una persona generosa e gentile. Romina è un'amica preziosa, sono grata alla vita per avermela fatta incontrare. Ci siamo subito trovate bene e tra noi c'è un rapporto speciale. Abbiamo cantato insieme, anche con Iari. I due erano stati ospiti, poco tempo fa, del salotto domenicale di Mara Venier, Domenica in. In cui avevamo raccontato l'inizio della loro storia e l'intesa che li aveva uniti. Io sono mezza italiana e mezza finlandese, quindi porto con me un mix culturale. Abbiamo una relazione spirituale, nel senso olistico. Corpo, mente, anima, tutto insieme, e abbiamo sin da subito iniziato a fare cose belle. Ho sentito subito una grande connessione. Abbiamo deciso di vivere insieme subito, e io ho fatto i bagagli, aveva dichiarato Thea. Ospite della trasmissione anche mamma Romina che aveva detto di aver, trovato un angelo accanto a mio figlio Iari. In un'altra intervista, l'ex moglie di Albano aveva aggiunto. Per me è un'estate dolce amara. Amara perché da poco mia sorella Tarin ha lasciato il corpo e mi manca molto, perché era la mia migliore amica. Dolce, perché mio figlio Iari si è fidanzato con un angelo, Thea, e insieme fanno una musica divina. È stata lei ad insistete ad andare ad un concerto. Seguivo Titta su Instagram, e sapevo che lei avrebbe fatto un concerto al quale volevo andare. Quando l'ho vista è stato più che amore un riconoscersi da vite precedenti. Insieme abbiamo portato l'India nel Salento. Cantiamo, ci esibiamo insieme adesso. Ad accomunare Thea e Iari, dunque, è stato uno spiccato lato spirituale. Visto che lei si definisce un'artista, multidimensionale. Cantante distica italo-finlandese con formazione giazzistica interazionale, ricercatrice sonora, compositrice, scrittrice, ballerina vedica, vegana, maestra di mantra e meditazione. Che da anni attraverso seminari e concerti diffonde il potere terapeutico e spirituale dei mantra in sanscrito, la lingua madre dell'umanità. Insegna il suono come meditazione, collegamento energetico tra il visibile e l'invisibile.